Nel segno dell'indimenticato Marco Pantani del Tour de France. Cesenatico accoglierà la Gran Bucle il 30 giugno con la partenza della seconda tappa e per l'occasione alla Notte Gialla sono intervenuti gli ex componenti della Mercatone 1 che aiutarono il Pirata a vincere Giro e Tour del 1998 e gli ex pro Ivan Gotti, Ian Ulerich e Mario Cipollini. Non sono mancati musica e divertimento con Matthew Lee, Francesco Baccini e i comici Cristiano Militello, Maria Piatimo e Claudio Lauretta. Ho sempre combattuto con Marco in maniera molto rispettosa e sono stato sempre felice di vedere che comunque il suo impegno e la sua forza sulla montagna davano grandissimi risultati quindi c'è sempre stato il giusto rispetto reciproco a quei tempi e anche ora ovviamente. Sicuramente Marco sopravvive nei nostri cuori. Come già detto Marco è stato un grande campione per tutti noi che partecipavamo a delle gare faticosissime ma anche per la sua gente. Il Tour de France partirà anche da qui soprattutto grazie a Marco perché Cesenatico era la sua città ed è sempre stato un campione. Noi lo ricordiamo nei nostri cuori e sopravviverà sempre nelle nostre menti. Mi viene in mente le lotte perché era un ciclismo che stava cambiando per certi aspetti e probabilmente questa grande magnetismo, questa grande forza che Marco aveva alla gente piaceva, agli avversari un po' meno perché quando arrivava lui di sole non ce n'era per gli altri, erano tutti all'ombra e al sole c'era soltanto lui e un pochettino di sole rimaneva per me. Questo è quello che ci ha sempre tenuto vicini perché noi non abbiamo mai avuto nessun motivo per essere rivali ma anzi ci consideravano un po' dei testimoni dell'italianità soprattutto al giro, al Tour ma anche al giro, questo fa parte un po' del momento storico che abbiamo vissuto.